Sì, è così. Dopo il nostro primo set, dove abbiamo giocato bene, era un po' difficile per noi, ma soprattutto in battuta, secondo me, perché loro sono bravi, ricci, ma noi dobbiamo spingere di più in battuta e così è più difficile per giocare, ma la sconfile è fantastica ed è difficile giocare contro lei, anche contro la squadra. Sono contenta con il nostro primo set, ma questa sconfitta è sempre là. Siamo un bel gruppo e abbiamo lavorato già tanto, ma dobbiamo lavorare ancora di più e giocare contro il Coeliano e contro il Casamaggiore sarà una sfida, ma siamo contenti. Siamo un bel gruppo e giocare contro la squadra.